La vittoria ancora non c'è, ma questo gubbio ha già dimostrato i dei veri carattere e attributi di primissimo piano per la categoria, oltre ad essere squadra organizzata ed in costante evoluzione. Lo dimostra la gara con la Flernitana, probabilmente la formazione tecnicamente migliore del campionato assieme al Benevento, in un match condizionato in gran parte, anche dai fischi eseguiti o meno, dell'arbitro Mangialardi di Pistoia. Bucchi conferma la difesa vista nel derby, sceglie Moroni in mediana al posto dell'infortunato Boisfer e lancia di Francesco in attacco. Panchina per l'ultimo arrivato Longobardi. Sander invece opta per il tridente Foggia-Gustavo-Ginestra. Quarto minuto, tiro di piva, Bartolucci sembra toccare in ali il pallone con la mano, ma per Mangialardi è tutto regolare. Il direttore di gara di Pistoia non può esimersi però al decimo, quando Briganti devia con il braccio il tiro di Ginestra, massima punizione trasformata con freddezza dallo stesso ex attaccante del Perugia. Il gubbio però reagisce con personalità da grande squadra, trovando il pari al 32esimo. L'azione parte da Malaccari, prosegue per Bartolucci, che pennella un superbo cross per la testa di Moroni, chirurgico nell'incrociare sul secondo palo. Prima rete tra i pro per l'Under 20 nazionale. Al 36esimo ancora Mangialardi protagonista, il portiere ospite Iannarilli, travolge di Francesco in area, ma per l'arbitro è tutto regolare tra le vibranti proteste gubine. Si passa alla ripresa, con la Salernitana che costruisce il match ball al 22esimo. Esposito lancia Foggia tu per tu con Pisseri, ma l'extrequartista di Cagliari e Lazio si fa ipnotizzare dal portiere rosso-blu che compie un intervento prodigioso. Bucchi getta nella mischia anche Longobardi, oltre a Giulia Ceradi, ma la gara scivola via senza troppi sussulti. Un buon punto di partenza per la compagine gubina. Atteva domenica prossima alla sempre ostica trasferta di Prato.